E poi con noi c'è il professor Nino Cartabellotta, buongiorno professore, che è il presidente della Fondazione Gimbe. In attesa dicevo di avere la sottosegretaria della salute, che sarà fondamentale per questa prima parte. Professor Cartabellotta, io voglio andare subito da lei. Voglio andare subito da lei perché oggi i giornali lo tengono un po' più basso questo tema di Mondragone e di Bologna, ma in realtà non è successo niente di diverso se non che anzi il numero dei contagi è comunque leggermente salito. Allora la prima domanda che le voglio fare è se secondo lei comunque le cose sono sotto controllo o se davvero siamo di fronte a rischi considerevoli che dobbiamo allarmarci seriamente. Io credo che in questa fase dell'epidemia noi dobbiamo considerare il virus come endemico, quindi ancora circolante. Sappiamo bene che abbiamo superato la cosiddetta fase acuta, quella peggiore che ha portato tanti pazienti in ospedale, in terapia intensiva, che ha provocato tanti decessi. Adesso il virus continua a circolare e periodicamente si riaffaccia dove esistono delle condizioni favorenti, come sempre nelle case di riposo, nelle comunità chiuse. Abbiamo visto anche in aree dove esistono condizioni socio-economiche disagiate. Quindi non c'è nulla di nuovo sotto il sole, semplicemente forse c'eravamo rilassati un po' troppo e pensavamo che tutto fosse finito. Quindi la cosa importante è che venga mantenuta alta l'attenzione da parte dei servizi epidemiologici territoriali, che questi focolai vengono immediatamente identificati, vengono tracciati tutti i contatti, che si effettuano gli isolamenti che ovviamente dal punto di vista geografico possono andare dal singolo edificio al condominio, al quartiere, all'intero comune, perché ovviamente poi questo dipende da quello che è il livello di estensione del focolai. Ma d'altra parte questo deve indurre tutti i cittadini italiani a capire che non è il momento di abbassare la guardia e che tutte le misure di distanziamento sociale, l'uso delle mascherine quando il distanziamento non è possibile mantenerlo e soprattutto evitare gli assembramenti, rappresentano sempre delle regole fondamentali per il periodo di convivenza con il virus. Questo credo che sia stato ripetuto centinaia di volte, però purtroppo in molte occasioni si va in deroga. Si fa fatica ad accettarlo e per chi ormai va in giro si è sicuramente reso conto che c'è una certa rilassatezza. Professore, il motivo per cui noi abbiamo deciso questa mattina di ripartire da questo tema che pensavamo di dare, forse anche noi colpevolmente, non dico per scontato, però di occuparci invece più seriamente di questioni legate al lavoro, legate alle emergenze economiche, eccetera, eccetera, e invece adesso dobbiamo nuovamente appunto parlare proprio nel merito, è che ieri, come sai, il rappresentante dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in Italia Guerra ha fatto un paragone che ha fatto davvero spaventare molti, qualcuno insomma, dicendo che il Covid si sta tutto sommato preparando e diciamo sta lavorando, ecco, sostanzialmente, ha fatto un paragone con la spagnola, no? Dicendo, guardate che anche quando ci fu l'epidemia di Spagnola, si sta comportando, scusate non mi veniva la parola, si sta comportando come l'epidemia di Spagnola, quella famosa di cent'anni fa che fra l'altro fece un numero di morti assolutamente imparagonabile, per fortuna, con il numero attuale. Ci fu una seconda ondata, ha detto guerra, e ci furono 50 milioni di vittime. È stato un paragone improprio o davvero dobbiamo aspettarci qualcosa di simile? Ma guardi, io credo che tutti i paragoni con la storia rappresentano sempre degli elementi, voglio dire, di riferimento che possono guidare a prevenire gli errori. Al momento credo che nessuno possa prevedere se ci sarà e quale sarà l'entità della seconda ondata, però tutti siamo ragionevolmente certi che questa ipotetica seconda ondata dipende da tre fattori. La prima sono dei fattori che sono legati al virus, la famosa ridotta virulenza, le mutazioni genetiche, cose su cui al momento ancora non abbiamo certezze scientifiche per poterci contare sopra. La seconda, come già detto, sono tutti i comportamenti individuali su cui non bisogna mollare la presa. E la terza sono le attività di sorveglianza epidemiologica e di traccettura delle regioni. Quindi, al di là di possibili scenari catastrofici, che ovviamente non sono esclusi, ma non sono nemmeno certi, è evidente che se noi sappiamo che ci sono degli elementi e delle strategie che servono a ridurre il rischio, qualunque sia questo rischio, è ovvio che non possiamo mollarli, perché di fatto, qualunque sia il rischio noi rischiamo, o con i comportamenti individuali impropri e o con strategie di sorveglianza sanitaria inadeguate, di aumentare comunque questo rischio. Questa è la ragionevole certezza che oggi la scienza ci offre. Poi tutte le ipotesi si possono fare, dalle più ottimistiche le più pessimistiche, ma io credo che una sana prudenza e continuare con quelle che sono le strategie è fondamentale. Dopodiché però hanno degli effetti sulle persone, cioè dire attenzione, perché può succedere come la spagnola, 50 milioni di morti, non è la stessa cosa che dire c'è il virus attenuato, sì, portate la mascherina, però glielo dico perché per esempio oggi sul foglio viene riportato uno studio che sarebbe stato fatto nei paesi in Giappone, in cui si dimostra sostanzialmente che usare la mascherina non solo ovviamente evita le infezioni, ma nel caso in cui ci fossero comunque il Covid risulta del 70% meno mortale. Ecco, lo capisce anche lei professore che dire una cosa del genere è completamente diverso dal dire ci saranno 50 milioni di morti, uno si comporta, non dico anche di conseguenza, però insomma... Assolutamente, ma io credo che noi tutti abbiamo vissuto, e lei sa bene quanto come Fondazione Gimbe, noi abbiamo mantenuto sempre una linea assolutamente equilibrata rispetto alla comunicazione scientifica, perché gli eccessi non vanno mai bene da nessuna parte, né quelli eccessivamente liberisti, né quelli particolarmente catastrofisti. Ci sono dei dati oggettivi su cui ragionare, ma soprattutto credo che tutti gli scienziati debbano allinearsi sulla logica che la scienza è incerta per definizione, e soprattutto che le ragionevoli certezze si acquisiscono man mano che si va avanti, e nell'incertezza bisogna ragionare con il principio di precauzione, senza fare da un lato terrorismo mediatico e dall'altro ovviamente senza dare un po' l'idea del liberi tutti, che ovviamente è un messaggio sbagliato dal punto di vista sociale, perché come abbiamo visto può far allentare molto la guardia e favorire anche l'insorgenza di Focolati. Quindi equilibrio, comunicazione pacata, anche dal mondo della stampa, evitare di alzare Tony, perché questo credo che sia il momento in cui dobbiamo essere tutti uniti, perché il virus succede, dobbiamo avere una strategia univoca per combatterlo. Presidente Bellotta, dicevamo di queste linee guida che finalmente sono state diffuse dal Ministero dell'Istruzione a proposito della scuola, riprenderà il 14, ha fatto molto ridere qualcuno, qualcuno invece ha proprio vagato nel vuoto quando ha sentito la Ministra Azzolina a parlare di queste rime buccali, che sarebbe in modo astruso per dire che da bocca a bocca ci deve essere un metro di distanza, però a noi piacciono questi bizantinismi, queste cose così. Mi dia una sua valutazione, professore, secondo lei sono sufficienti, sono un giusto compromesso fra ciò che sarebbe stato in un mondo ideale, bene fare, ciò che con quello che abbiamo dobbiamo fare? Ma guardi, io mi posso limitare solo a una valutazione di tipo scientifico. Eh sì, quella io voglio, quella io voglio da lei. La prossima settimana dovremo uscire proprio con questa analisi della letteratura, da cui emerge che di fatto la chiusura delle scuole tra tutti i vari interventi messi in atto durante una pandemia, ovviamente i dati si riferiscono prevalentemente alla SARS, è quella che ha offerto il minor contributo a quella che è la prevenzione, diciamo, della diffusione dell'epidemia. E i primi studi di modeling, cioè i primi studi di simulazione sul Covid-19 sostanzialmente affermano che la chiusura delle scuole da soli prevengono dal 2 al 4% dei decessi. Quindi siamo di fronte, diciamo, a una di quelle situazioni dove il bilancio tra rischi e benefici, tenendo conto anche della complessiva situazione delle infrastrutture scolastiche che probabilmente oggi avrebbero bisogno ben più di quel miliardo di investimento che è stato messo sul piatto, che scuole e sanità sono state le regioni grandi. Ce n'è un in più, ce ne hanno messo un in più. Ah bene. No, beh, lo segnalo perché... Però è fondamentale. Però ecco, la cosa importante è che al di là di quelle che sono i rischi, dico che, ripeto, ho l'evidenza scientifica... Lei ha detto una cosa importantissima, cioè lei ha detto sostanzialmente chiudere le scuole è servito a pochissimo, forse è più il danno che il vantaggio. E questa cosa, insomma, se è supportata da dati, cifre ed evidenze scientifiche, è veramente grave. I dati sostanzialmente dicono che degli studi inclusi in questa grossa revisione sistematica pubblicata sull'ANZET ci sono 16 studi che proprio riportano i dati che ho appena citato, che gli studi di modeling parlano di una riduzione di circa il 2-4% dei decessi che potrebbero, in una situazione Covid, essere potenzialmente anche minori visto che sappiamo che la popolazione pediatrica, voglio dire, non ha un particolare impatto diciamo della malattia, se non come soggetti che possono trasmetterla agli altri. Però, ripeto, quello che è fatto è fatto, è evidente che si è deciso in un momento di lockdown totale. Però adesso che nella riapertura la scuola è stata, diciamo, la grande dimenticata, soprattutto rispetto alla programmazione, adesso le linee guida ci sono, sembrano anche abbastanza rigorose, in alcuni casi ritengo anche poco compatibili con quella che è la situazione del patrimonio edilizio organizzativo, infrastrutturale, scolastico. Vediamo, diciamo, quali sono le possibili soluzioni che si riusciranno a mettere in campo, perché la mia preoccupazione è che comunque tutte quelle che sono le modalità operative con cui dovranno avvenire le riaperture delle scuole non hanno fatto ancora i conti con la realtà e soprattutto questa decentralizzazione, questa possibilità di demandare a ciascun preside le modalità organizzative, ci lamentiamo della sanità che abbiamo 21 servizi sanitari regionali, immaginiamo, voglio dire, una babbere di presidi che possa definire... E però, professore, l'autonomia scolastica c'è ormai da ventina d'anni, forse pure di più, eh? Eh, lo so bene, però io credo che se dal coronavirus non impariamo per la scuola, per la sanità, per il lavoro, per tutte quelle che sono le aree dove il Paese ha bisogno anche delle grandi riforme che devono essere veramente fatte di innovazione, di rottura, e ci ancoriamo a quelle che sono ovviamente tutta una serie di situazioni che hanno cristallizzato la burocrazia e tutta una serie di decisioni legislative nel nostro Paese, non ne veniamo fuori, perché questo è un punto di svolta, che è, come si diceva anche poco fa, o si svolta in una certa direzione, eppure il rischio è che il Paese non riuscirà a risollevarsi in maniera molto semplice da questa grande crisi economica. Sento anche il professor Cattabellotta che è stato il nostro compagno di viaggio in questa prima parte della mattinata. Onorevole Molteni, un'ultimissima domanda per lei, perché lei è stata...